Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, ultimo almeno per il momento video dedicato alla decima stagione di The Walking Dead perché adesso lunedì è andata in onda la 10x15 ovvero The Tower, la torre, che è attualmente l'ultimo episodio perché se avete seguito gli aggiornamenti vari, anche i miei video in cui l'ho anche detto, purtroppo l'episodio 16 andrà in onda più tardi, verso l'autunno, almeno si spera, perché ci sono stati dei problemi di post-produzione a causa del coronavirus comunque hanno detto che l'episodio è pronto al 98% perché comunque sono usciti il promo, degli sneak peek quindi diciamo che da quello che ho capito, e l'ho capito anche grazie alla mia amica Carol di Carol Italia, link pagina Facebook in descrizione come sempre mancano giusto quelle quattro cavolate che però vanno fatte per forza negli studios della Warner Bros. in California e a causa appunto della quarantena adesso è tutto chiuso, di conseguenza finché non si sbrodia la situazione con sto virus e con questa quarantena finché in California non si sistema un po' la situazione, i Warner Bros. studio restano chiusi e di conseguenza non si possono ultimare i lavori sul sedicesimo episodio che è l'effettivo finale di stagione, quindi l'episodio 16 lo avremo più avanti, quindi diciamo che per adesso non è che io non lo considero un finale io l'ho guardato come finale a sé perché comunque si vede che non è stato studiato come finale di stagione, assolutamente perché è un episodio di transizione questo, è un episodio molto introspettivo e molto di transizione che spiana la strada verso quello che poi sarà l'effettivo finale di questa decima stagione l'episodio appunto è The Tower, che è appunto la torre che cosa è successo? innanzitutto ho già una pecca che devo dire è che altro salto temporale di ore, giorni, penso ore perché da una parte l'episodio comincia con Eugene, Yumiko e Zikiel con Princess, che a mio parere è un personaggio fantastico, ecco voglio subito parlare di lei è un personaggio che veramente mi è piaciuto ha riportato l'infa e brio in questa serie che ormai stava avendo dei personaggi che sono poi diventati l'inutilità fatta a personaggi e spero ovviamente che questa non sia la sorte di Princess, perché Yumiko, appunto Yumiko, Magda, Magna, me cazzo mi sono pure dimenticato i loro nomi, Luke e anche Kelly purtroppo sebbene in questo episodio abbia avuto un bel momento con Karen ma poi ne parliamo sono diventati inutili, avevano un enorme potenziale, sono diventati inutili Princess ha portato quel brio e quella allegria anche possiamo dire che mancava un po' The Walking Dead è un personaggio comunque che è stato solo per un anno non ha tutte le rotelle che girano per il verso giusto ma non è una cattiva persona questo fucilazzo poi bestiale veramente che comincia a sparare gli zombie e fa scappare anche i cavalli dei nostri, dei nostri diciamo Eugene, lei offre appunto, si offre di offrirgli qualcosa insomma, di stare un po' con lei ma Eugene dice, ah vabbè lei non c'ho tempo, c'ho la svinfra che mi aspetta, devo andare a scopare vabbè non è proprio questo, è che comunque i nostri adesso devono cercare questa comunità perché sono col culo per terra perché appunto Beth ha portato l'ordine d'Alexandria ma giustamente per una volta non hanno fatto i mentecatti sono scappati e sono rifugiati in questo ospedale abbandonato in cui sono alla canna del gas quindi gli serve, gli serve d'aiuto e se Stefani glielo può dare devono anche sbrigarsi a trovarla pensate se poi Stefani si rivela una stronza colossale e hanno fatto tutto per un cazzo insomma non penso perché Stefani dovrebbe aprire l'arco narrativo dei New Order, del Comma World così ho capito, io non seguo il fumetto quindi prendete quello che dico con le pinze se volete cose più dettagliate andate sul canale di Donop e Dead Inside che roba è molto molto più informato di me su queste cose comunque sia, parlando appunto anche di Princess è un personaggio che comunque è rimasto solo per tanto tempo è molto eccentrica, è molto eclettica, proprio si vede che è fuori di melone ma le vuoi bene anche per questo perché veramente trasmette tenerezza, non trasmette paura cioè io vedo questa ragazza, si penso in fuori di melone ma non mi viene da pensare che sia una persona cattiva, mi viene da pensare che è una persona che è stata sola tanto tempo e che sta soffrendo tanto per questa solitudine che vuole semplicemente che qualcuno l'accolga e si fidi di lei che non è quello che pensa Yumiko, che subito veramente Yumiko è stata l'antipatia fatta a persona sembrava Magna 2.0, veramente l'ho mandata a fanculo tante di quelle volte durante la reaction che trovate qui nelle schede e poi nelle schermate finali a fine video che veramente non la sopporto più, spero ovviamente che se ne vada fuori dalle palle anche lei perché davvero lei e Magna non le sto reggendo più sono diventate inutili Eugene è l'unico che capisce effettivamente poi lo stato d'animo di Princess perché appunto Princess dice che appunto pensa di essere lei il problema perché una volta qualcuno l'ha detto sei difficile da amare e tutto quanto ha mentito appunto per non restare da sola e Eugene si è imbedesimato in lei perché lui ha fatto la stessa identica cosa se vi ricordate nella sesta stagione lui, anzi anche quinta, sesta stagione ha mentito per non stare solo e farsi tenere al sicuro da Abram e da tutti quanti quindi di conseguenza sa perfettamente come si sente e appunto gli chiede hai veramente accesso a questi vicoli poi c'è una scena su un campo minato veramente spettacolare, bellissima con lei che cerca di studiare dove cavolo sono le mine e dove non ci sono e trova una delle biciclette, vabbè meglio di niente e anche Yumiko lì poi sembra sciogliersi e le propone di unirsi a loro e meno male che ho detto meno male Yumiko però una volta hai fatto una cosa giusta infatti Princess la abbraccia, è contentissima, è felicissima dice ho delle armi, ho del cibo, anche delle caramelle e Eugene a caramelle ha visto che si è bloccato congelato, completamente morto, cerebralmente morto a caramelle ha raggiunto il Nirvana, cioè veramente parlando poi del resto dell'episodio adesso appunto voglio soffermarmi su Princess che secondo me è il personaggio migliore insieme a Negan di questo episodio e anche a Carol abbiamo poi anche i nostri eroi diciamo che adesso sono in questo ospedale e vediamo un Daryl che cerca di contattare Michonne di dirgli non andare a casa perché guarda che ci siamo nascosti stiamo pensando a un piano e effettivamente è vero hanno un piano per sbarazzarsi dell'orda ma Michonne ormai a Daryl Michonne se ne è andata fuori dalle palle vi ha mollato veramente in questo episodio l'uscita di Michonne sta ancora più sulle palle di quanto non è stata nell'episodio effettivo perché non soltanto questa se ne è andata durante, anche se Giuditi l'ha detto guarda che è tutto a posto e secondo me la bimba l'ha fatta apposta la bimba l'ha fatta apposta io non capisco ancora come si è potuto dare un peso del genere a una bambina di 10 anni ma non gli risponde giustamente perché questa è andata a cercarsi lo svifero ed è stata anche Giuditi il bello che non gli dice neanche a Daryl adesso poi ci arriviamo allora andiamo per ordine in realtà ecco partiamo appunto con Giuditi e Daryl così dico tutto perché ci sono tre interazioni importanti in questo episodio quella tra Giuditi e Daryl quella tra Carol e Kelly e quella soprattutto più bella tra Negan e Lydia appunto quella me la tengo per ultima perché è la più bella partiamo ora a Daryl e Giuditi qui chiaramente Daryl adesso deve fare da padre a Giuditi una Giuditi che porta un peso immenso perché ha paura effettivamente di dire allo zio perché la madre effettivamente se n'è andata perché ha paura che se ne andrebbe che se ne vada anche lui che la moglie anche lui questa stronza di Michonne che è tutto a dire una madre meravigliosa ha mollato i figli per andare a cercare lo svifero quindi hanno usato Rick la sua memoria per sfanculare tutta la sua uscita per renderla meno becera ma ragazzi Rick o non Rick l'uscita di Michonne è comunque becera basta dirci stronzate doveva morire sarebbe stato meglio almeno Giuditi non è potuto mettersi l'anima in pace in questo mondo la gente muore la mamma è morta devo soltanto andare avanti e proseguire ma questa bambina sta qui sapendo che la madre ha farsi i cazzi suoi e l'ha mollata lì con lo zio Daryl ma vattene affanculo Michonne veramente no 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 qui in questo episodio è resa ancora più becera perché comunque Giuditi dice ad Ellie che vuole imparare a fare quello che fa lui per tenere tutti al sicuro non riesce a stare nell'ospedale anche perché questa bambina vorrebbe tanto dirglielo il motivo e infatti gli dice la mamma le ho parlato dopo un incendio sta aiutando delle persone che hanno bisogno è andata ad aiutare delle persone che avevano bisogno di lei e ha deciso di aiutarle ecco io qui a Daryl sarà ripreso la radio a Michonne ma vattene affanculo abbiamo bisogno anche noi cioè ma ma veramente ma dai ragazzi ma seri ma seri ma veramente ma di cosa stiamo parlando comunque Daryl insegna un po' i suoi segreti del cacciatore a Giuditi li vediamo proprio effettivamente instaurare un rapporto padre figlia perché comunque adesso i bambini a lui sono stati sbolognati c'è poco da fare lui che se ne deve occupare c'è poco da fare adesso sarà lui che dovrà stare dietro a Giuditi ed essere un punto di riferimento per lei c'è poco da fare in questo caso incontro una sussurratrice che è scappata dopo che Beta appunto è lì che li sta cercando sta donando a version of the inside che è quello che ho capito che vogliono perché ci sono appunto Aaron e Alden che li stanno tenendo l'occhio per vedere se effettivamente stanno andando verso Oceanside e c'è una che appunto lo definisce l'Alpha questo si gira a prendere il coltello e questo è oh oh ma è oh oh come all'Alpha Giovanni Giacomo e dice oh 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 ma è oh ma è un c'è ma Beta è chiaramente fuori di Merone è completamente fuori di testa e questo è giusto di scappare e ha incontrato Terri che le ha piantato una freccia nel petto ha chiesto informazioni ma lei lei dice chiaramente che lei non sa se sa dove sono che è scappata perché Beta è impazzito bla 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 e Terri caritatevole le pianta una freccia in testa quando lei invece voleva voleva camminare ancora anche da morta e vediamo una Judith che effettivamente ci resta cioè vediamo una Judith effettivamente bambina una bambina che ha visto lo zio ammazzare una persona che era già inerme e appunto qui poi dopo questo parte un dialogo appunto Judith non riesce a concepire che l'hanno lasciata lì e tutto quanto dice a Daryl che ha sentito la madre e tutto quanto e gli dice che non gli ha detto niente perché aveva paura che se andasse anche lui lui dice che non lo farà lei gli chiede di promettergli e lui dice che non può ecco qui mi è piaciuto perché appunto Daryl è onesto con la bambina non può promettere che non andrà mai via perché potrebbe anche capitare che lui debba andare via potrebbe succedere purtroppo perché non sanno che cosa succederà però la rassicuro dicendo tu devi stare tranquilla perché comunque hai un'intera famiglia che è pronta a fare tutto per te e quando sarai grande dovrai fare tu delle cose per loro quindi insomma questo ragionamento c'è stato cioè Daryl ha trattato Judith un po' da bambina e un po' anche da persona adulta perché comunque Judith è una bambina di 9 barra 10 anni 11 penso al massimo e quindi abbiamo avuto appunto questo bel dialogo che si conclude poi con l'effettiva fine dell'episodio con l'orda che sta arrivando verso l'ospedale ma come? questa parte volevo tenere da dopo ma a questo punto la dico adesso per un cazzo di gatto un fottuto gatto ha fatto capire a Beta gli ha fatto cambiare di lezione e andare verso l'ospedale è una cagata pazzesca anche qui mi dispiace ma ci sta il vaffanculo perché anche questa è una stronzata è una stronzata bella e buona una forzatura di me ma avrei concepito qualunque cosa avrei concepito un razzo sparato per caso avrei concepito la madonna che gli dice guarda che guarda che non devi andare di lì devi andare avrei preferito il fantasma di Alfa che gli dice Beta dove cazzo sta andando guarda che loro sono di lì li ho visti io dall'inferno quindi vai di lì sarebbe stato più realistico sarebbe stato più realistico di un cazzo di gatto che gli passano avanti vabbè vabbè chiudiamo la parentesi comunque l'episodio appunto si conclude con l'orda che arriva verso l'ospedale parlando poi di Alfa appunto parlando appunto delle interazioni perché sono le interazioni il fulcro di questo episodio parliamo appunto di Carol e Kelly Carol e Kelly vanno fuori a cercare dei cavi per Luke che mi pare sia costruendo una bomba o comunque qualcosa che dovrebbe distruggere quest'orda e hanno un bel dialogo cuore a cuore Carol chiede scusa a Kelly per quello che è successo a Connie ma Kelly le dice che non si deve scusare che ha capito perché ha fatto quello che ha fatto che la sorella lei sente che non è morta ma forse la parte di sé che vuole convincersi che in realtà lo è anche io penso che Connie sia morta ne sono quasi convinta e appunto le dice anche che quando ho iniziato a perdere l'udito mia sorella diceva che non era una debolezza ma era un superpotere il tuo superpotere essere un lupo solitario perché ho sentito le storie su di te e di quella che prendevi in mano la situazione e essere un lupo solitario è il tuo superpotere non cambiare quello che sei perché adesso accadono brutte cose abbiamo bisogno che tu sia così e io qui a Kelly ho fatto l'applauso brava è l'unica che veramente ha capito che Carol ha fatto qualcosa ha agito perché se fosse stato per quegli altri quelli erano ancora lei a farsi inculare da Alfa sarebbero tutti morti a quest'ora se non fosse stato per Carol quindi basta ragazzi dici stronzate basta perché poi quello che è successo a Connie è stata una cazzo di botta di sfiga basta puntare il dito contro questa povera donna che non era anche ancora riuscita a chiarirsi con il suo miglior amico barra l'uomo che desidera cioè dai basta dici stronzate ragazzi io lo sapete non sono una carriera romantica ma è chiaro che ciò che Carol desidera è stare con Daryl stare in pace ecco vivere una vita soprattutto insieme a lui è la persona più importante della sua vita non dico anche in maniera romantica comunque quello che vuole lei desidera ardentemente il perdono di Daryl che poi c'è poco da perdonare la conosceva da dieci minuti cazzo Carol quella l'ora lì e quindi mi è piaciuto molto questo video mi è piaciuta molto Kelly parlando poi dell'ultima interazione quella più bella quella più importante quella tra Negan e Lydia ormai ragazzi è consolidato sarà Negan la figura paterna di Lydia non Daryl perché è veramente è stato più Negan una figura paterna per Lydia tutti a dire Daryl sti cazzi cioè Daryl adesso dovrà fare da padre a Judith quindi Lydia per Lydia va benissimo Negan perché Negan veramente è stato il top insieme a Princess in questo episodio perché intanto però Negan il fatto che vai a dire a Lydia che Alfa ti piaceva ho capito che è la prima che ti ha dato dopo sette anni ma non puoi dire che ti piacesse a questa ragazzina qua non glielo puoi dire certo tu volevi fare del bene nel tuo piccolo ma non puoi assolutamente non puoi poi che gusti di merda hai in fatto di donne porca di quella puttana e quindi appunto Lydia gli dice molti vorrebbero che fossi morto anche tu e tutto quanto cioè insomma c'è anche da capirla Lydia per quanto lei volesse odiare Alfa per quanto voglia odiarla era comunque sua madre e adesso non c'è più nonostante comunque fosse lì pronta a ucciderla Alfa lei era comunque sua madre cioè c'è poco da fare ragazzi era comunque la sua mamma l'unica che aveva e quindi appunto niga glielo dice sfogati sfogati su di me colpisciti colpiscimi mandami a fare in culo fai quello che vuoi perché se non lo fai se ti tieni tutto dentro finirai per allontanarti ancora di più da queste persone so che non lo vuoi e Lydia appunto comincia ad arrabbiarsi l'hai fatto solo perché volevi che tu ti pensassero che sei un eroe ma in realtà pensi solo a te stesso sei un egoista come puoi dirmi che ti piaceva io la odiavo voglio odiarla quindi non dirmi che non devo farlo comincia a colpirlo e niga l'abbraccio gli dice guarda che va tutto bene nel senso guarda che è giusto che tu ti senta così e c'è questo bellissimo abbraccio secondo me questa è stata l'interazione più bella di tutte e tre poi anche appunto caratterizzata da delle interpretazioni secondo me veramente belle soprattutto quelle di Jeffrey e di Cassari scusate mi sto perdendo la voce la cosa curiosa è che appunto hanno accoppiato in questo episodio tre big ovvero Norman Jeff e Melissa con i tre più giovani ovvero Angel Theory che è Kelly Cassidy Lydia e Kelly Fleming che è appunto Judith e questa è una cosa carina e simpatica quindi l'episodio appunto si conclude con Lord di Beta che sta arrivando appunto in questo ospedale per un cazzo di gatto un cazzo un fottutissimo gatto del malaugurio e appunto Aaron poi abbiamo visto anche Aaron e Alder venire circondati da dei sussurratori e ad Aaron puntano un fucile quindi adesso veramente ho tante domande ho tante domande spero che l'episodio 16 mi risponda a tutte queste domande ho visto anche il promo le prospettive sono buone quindi speriamo bene io do un 8 a questi episodi anche perché è stato molto di transizione molto di introspezione non è un final season perché non è stato pensato assolutamente per un final season ma spiando la strada verso quello che sarà l'effettivo finale e che segnerà anche il ritorno di Maggie parlando due secondi anche di Maggie io spero ovviamente che quella ragazza abbia avuto una scusa plausibile per non aver mosso il culo per sei anni vabbè barra un anno perché comunque è passato un anno dalle picche e soprattutto che non cominci a rompere le palle per quanto riguarda Negan perché se no per quanto mi riguarda può morire male la prendo a calci nel culo perché Maggie dall'ottava alla nona stagione mi è stata sulle palle da bestia spero ovviamente che cambia atteggiamento perché se comincia a rompere i coglioni se veramente sarà fregata della sua gente anche se non penso ma speriamo ovviamente che non sia così non ha nessuna voce in capitolo è stata lontano sette barra otto anni deve soltanto stare zitta e mosca e accettare che Niga si è guadagnato la sua redenzione e basta questo video si conclude qui spero che vi sia piaciuto vi ricordo che in descrizione trovate il link della pagina facebook realitalia grazie Carol saremo in live appunto oggi pomeriggio visto che voi state vedendo questo video di giovedì verso le 4 comunque sono le 2 e mezza adesso se state vedendo il video verso le 4 saremo appunto in live io con la voce lei con viso e voce per parlare appunto di questo episodio trovate anche il mio instagram se avete voglia di dare un'occhiata alle mie foto alle mie stories e se avete voglia di seguirmi mettemi qualche like mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima recensione e alla prossima reaction ciao a tutti ma io non riesco ancora a concepire che è stato un gatto ma un cazzo di gatto ma io l'ho sempre detto che comunque i gatti sono malefici no non è vero non è vero tutti gli animali sono buoni belli e gentili anche se ti portano un'orda in casa grazie a tutti grazie a tutti